La Countryman John Cooper Works va a completare la gamma delle crossover anglo-tedesche nella parte più alta del listino, con prestazioni da vertice, look specifico e varianti di personalizzazione. Il 1.6 Turbo Twin Scroll da 218 CV le consente uno 0-100 in 7 secondinetti e una velocità massima di 225 orari. Il lancio commerciale è fissato per l'autunno del 2012, debutta in veste di concept la Club Van, variante commerciale ma sempre premium della Clubman, con uno stile inconfondibile e incredibilmente pratico, che abbina alla funzionalità della carrozzeria van l'attraente silhouette della versione familiare. Tra le altre novità, pochi mesi dai giochi olimpici nella capitale Londra, due edizioni speciali dedicate, la Baker Street e la Base Water, con look esterno riconoscibile per la vernice esterna nella tonalità rooftop grey metallizzato, combinata con esclusive stripes per il cofano motore e interni inediti. Nuova è anche la Mini Cabrio Highgate, serie speciale abbigliata in stile British.